pochi minuti alle 12 piazza rosselli pieno centro di qualiano una donna al quarto mese di gravidanza passeggia da sola alle sue spalle un uomo furtivo casco e guanti calzati la coglie di sorpresa e respira il borsello dalla mano poi fugge la vittima lo insegue e intanto grida aiuto non si arrende e per questo il rapinatore la colpisce più volte alcuni passanti sentono urlare e bloccano l'uomo poco prima dell'intervento dei carabinieri della stazione di qualiano a finire in manente antonio pellegrino 62 anni di arzano già noto alle forze dell'ordine addosso una pistola salve marca bruni senza tappo rosso e otto cartucce la donna una 29 anni nel posto se la caverà con cinque giorni di prognosi pellegrino è stato portato in carcere in attesa di giudizio grazie a tutti